colgo l'occasione ragazzi per ricordarvi di iscrivervi al canale aiutarmi a crescere attivare la campanellina e vi ricordo il nuovo contest sul canale ragazzi il contest road to 15k ricordatevi di aprire la descrizione di ogni video in cui troverete il link del contest troverete tutti i miei contatti contatti del team glitch e tutto il resto detto questo vai con la intro e ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale io sono maxi e questo è un glitch dei soldi da fare da solo fatto in maniera più semplificata rispetto a quello che ho portato qualche giorno fa quindi allora per fare questo glitch ragazzi abbiamo bisogno di determinati requisiti quale il bunker ovviamente dovremmo essere ceo ragazzi è più o meno come lo stesso glitch che vi ho portato mi sembra l'altro ieri però cambia qualche passaggio è molto più rapido quindi dovremmo essere ceo per fare il glitch dovremmo avere un bunker e una base operativa in questo caso ragazzi il glitch dell'altro giorno si faceva con il nightclub questo si fa in base operativa quindi se avete bunker e base operativa vicine io penso che sia perfetto insomma quindi a questo punto passiamo a tutti quanti i requisiti come vi ho già detto bunker e base operativa qui ragazzi ce ne sono alcune vicino insomma poi la gestite voi la situazione io non lo so non vi dico comprate bunker e base operativa per fare il glitch perché insomma mi sembra un po' n'idiozia e però vedete voi all'interno della base operativa dovrete avere lgr h8 a costo zero più ne avete e più duplicate il massimo che potete avere sono sette lgr h8 poi di seguito nel vostro centro operativo mobile dovete avere il centro di controllo e dovete avere uno slot alloggiamento veicoli insomma poi quando abbiamo questi requisiti che bene o male sono gli stessi requisiti di sempre passiamo a un altro requisito che è il penultimo requisito che è la mira manuale ragazzi e questo qui che andiamo a vedere adesso è l'ultimo requisito ragazzi dovremo avere le telecamere di sorveglianza nella nel bunker una volta che abbiamo tutti i requisiti andiamo nel centro operativo mobile dove dovremo avere una lgr h8 e la portiamo fuori dal centro operativo mobile ragazzi fino a qui il glitch è come quello che vi ho portato qualche giorno fa però andranno a cambiare alcuni passaggi che ci permetteranno di rendere il glitch un pochino più semplice ragazzi o meglio non dovremo stare lì sempre a bere birre sempre a bere birre ma qui in questo caso le berremmo solo una volta ma dovremmo baggarci un paio di volte quindi non so se è meglio bere birre o meglio stare a baggarci questa è una cosa che vi lascio a voi che decidete voi vedete voi insomma i glitch ci sono sul canale ho portato l'altro sto portando questo sto cercando di spiegarvelo in maniera più dettagliata possibile quindi siete voi a decidere quello che volete quello che non volete fare quindi a questo punto entrati nel centro operativo mobile ragazzi ci dobbiamo dirigere al pannello di controllo e andremo ad avviare una missione di del pannello di controllo adesso io vi faccio vedere che cosa dovete fare prima di avviare la missione allora prima di avviare la missione ragazzi dovete andare in una partita veloce e avviare una qualunque partita tra golf freccette braccio di ferro quello che cazzo volete voi quindi partiamo avviamo una partita veloce e appena abbiamo avviato la partita veloce dobbiamo premere freccia destra per avviare queste missioni mi raccomando dovete essere ceo per avviare queste missioni altrimenti non ve le fa avviare dopodiché che abbiamo avviato ci butterà fuori rientreremo un'altra volta e quando saremo dentro nella schermata premeremo il tasto option scusate ragazzi e usciremo da dove sono uscito io ci dirigeremo alle telecamere di sorveglianza come ho fatto io dopo di che tireremo fuori il telefono per per vedere se è tutto ok e andremo a fare un partecipa a sessione da un nostro amico per questo motivo abbiamo bisogno della mira manuale perché tutti i nostri amici giocano in mira assistita completa e quindi a questo punto ci faciliterà il tutto andremo a cercare un qualunque nostro amico che è in mira cioè diversa dalla nostra perché sicuramente incontreremo persone che sono in mira diversa dalla nostra andremo a fare un partecipa a sessione scusate ancora ragazzi ma inciampico sulla lingua tante volte e rifiuteremo il messaggio il primo messaggio che ci arriverà lo rifiuteremo a questo punto dovremmo ubriacarci ragazzi ubriacarci fino a morire allora come ho già detto ragazzi se voi tenete premuto il tasto x mentre state bevendo la birra la birra la beve tutta altrimenti non la beve tutta e non vi ubriacherete come è successo a tanti ho letto i commenti ragazzi dovete premere due volte prima x per prenderla e la seconda volta dovete tenere premuta per ubriacarvi dopodiché quando siete ubriachi vi dirigete alla vostra base operativa ragazzi e andate dove sono le videocamere di sorveglianza ma prima di fare ciò ragazzi dovete aprire il menu option per aprire il menu option tirate fuori il telefonino andate su internet e da lì premete il tasto option e aprite questo menu una volta che siete qui andate su online e andate su questa impostazione qui su sala di attesa e mettete sala di attesa aperta ragazzi mi raccomando aperta una volta che avete fatto ciò siete pronti a fare il glitch sembra difficilissimo ragazzi ma non lo è sicuramente è abbastanza più facile rispetto all'altro una volta fatto ciò l'unica cosa che dovete fare è aprire il telefonino nuovamente e avviare un colpo dell'apocalisse uno qualunque non c'è bisogno che sia bogdan o quale altro cazzo sia basta che ne avviate uno qualunque una volta che sta facendo il recupero dei dettagli come state vedendo in basso a destra premete freccia destra vi butterà nelle telecamere subito dopo fuori sarete leggermente invisibili per qualche secondo e ragazzi ricordatevi di comprare le birre se volete continuare il glitch quindi come ho già detto vi dirigerete verso la vostra lg rh8 salirete accelererete e l'auto sparirà spariranno tutte le auto nella base operativa rimarrete frizzati rimanete una venticinquina trenta secondi così dopodiché fate un partecipa a sessione ragazzi qui è leggermente in velocità però comunque sia era per capirci accettate il primo e schippate il secondo messaggio in questo caso questa volta dovete accettare il primo messaggio e schippare il secondo quindi una volta fatto questo passaggio potete uscire tranquillamente dalla base operativa vi darà questo messaggio qui uscirete dalla base operativa e sarete sfrizzati può succedere anche che vi butti fuori direttamente dalla base operativa però comunque sia dovete uscire dalla base operativa voi con le vostre gambe o vi butterà fuori il gioco dopodiché vi dirigerete al bunker come sto facendo io e una volta nel bunker ragazzi l'ultimo passo che dovete fare che è quello più importante di tutti è mettere l'auto nel centro operativo mobile noterete che come saliremo sull'auto cambierà la targa ovviamente prenderà la targa della lgrh8 che che avevamo e automaticamente il clone sarà quasi definitivamente salvato l'ultimo passaggio per salvare questo clone sarà entrare nel centro operativo mobile per poterlo salvare definitivamente quando andremo nel centro operativo mobile ci dirà che ci sarà già un altro veicolo facciamo la sostituzione e saremo pronti a ripetere nuovamente il glitch allora ragazzi vi spiego una cosa per ripetere il glitch dovete ripetere tutto quanto il bug da capo ovvero vi dovrete baggare nuovamente qui nel centro operativo mobile e bere le birre per esempio io adesso porto a me non interessa continuarlo però per esempio io porto l'auto fuori metto l'auto fuori tornerei se dovessi continuare a fare il glitch nel centro operativo tornerei a baggarmi berrei le birre farei tutto quanto il procedimento che avete visto all'inizio del video e completerei il glitch come ho già detto per tutto il procedimento intendo com telecamere birre e tutto il resto detto questo ragazzi vi ricordo di passare nella descrizione per tutti i link un saluto a tutti e al prossimo video ciao belli no mercy ciao 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 ciao